Fa davvero male vedere immagini come queste. Quello che vedete è un enorme incendio di pneumatici che si è verificato in Kuwait. Si tratta della più grossa discarica di pneumatici che ne contiene, pensate, ben 7 milioni. I danni sia per le persone che per l'ambiente sono enormi. Oltre ai classici inquinanti, sprigionati da un normale incendio come polveri sottili, idrocarburi in combusti, benzene, formaldeide, nel caso di pneumatici si aggiungono una serie di sostanze che vanno ad aggravare la situazione. Come ad esempio inquinanti a base di zolfo, metalli pesanti come rame e zinco, tracce di asfalto. Queste sostanze possono viaggiare per migliaia di chilometri e depositarsi su foreste e laghi, insomma un disastro. Voi cosa ne pensate?